Adesso sarete contenta, no? Siate riuscite ad abbindolare in molti dei credenti a rendere la vita più infelice a tutti quanti o quasi, per fortuna Forse traite beneficio dalle disgrazie altrui? È sufficiente, Leonore No, non lo è Questa donna sarebbe già dovuta sparire dal quartiere O pensate di rovinare la vita ad altri residenti? Lasciatela in pace Lasciateci in pace Se voi siete una miscredente e un'eretica non tentate di trascinare gli altri nel vostro inferno personale State parlando con un'illuminata Dite davvero? Con l'illuminata Cristina Novoa? Io pensavo che gli illuminati radiassero pace e amore e voi non siete il tipo Su questo sono d'accordo Parlate alla gente Ma il vostro non è un messaggio di gioia Non fate alcun bene Dovreste andarvene da Acacias Avete portato solo dolore e amarezza Fate qualcosa di buono Andatevene Lo stesso